Siamo figli del mondo Non è più un tuo gioco Non è più un tuo gioco su cui il popolo si muove ricarica la rettifica e pubblica e di tutti anche di chi lo riquita è libera di tutti articolo 1, che cosa succederà c'è scritto che ogni giorno avrà un bel lavoro articolo 2, 9, lancia un messaggio la repubblica tutta è una natura e stessa articolo 1, unico, una coppa più a terra è solitare a tutta la guerra articolo 21, bello è il 21 vuole parlare di quei riservati ma è nessuno articolo 3, da 10, ed è da 4 la scuola è di tutti e si possono parlare comandi chi comandi e chi vuole comandare prima deve passare per la casa posti di un suonare 9, 19, 139 sono le cose su cui il popolo si muove l'Italia è una repubblica e pubblica e di tutti anche di chi lo riquita l'Italia è una repubblica democratica e la Costituzione a noi ci sarà simpatica articolo 7, senti come pesa piccara e stoccani e dipendenti dalla casa capitolo 32, ora da niente la repubblica per la peccina e tutta la razzanina sa bene le esi e la psiqui sono due anni e tu non c'è la vita e con i suoni e con i suoni e con i suoni La tecnologia caraza l'Italia è stata comandi e che ci resta qui ci restano qui ci restate di un'io con i suoni e suoni e con i suoni suono e razzanina e con i suoni e si come puff geek di un'io con i suoni e con i suoni e con i suoni e radio